guarda non si muove neanche con la spalla neanche con le spalle muove impennata bravo Walter, firma, firma fai Giovanna si si se poi non ce la fai non spingere troppo dai dai dove hai fatto la cura va a fare questo movimento qui sono legamenti tu abbia fatto una roba qui va a farlo va a farlo va a farlo va a farlo si bravo ma vieni ma chi sei te? dopo vengo su eh si tranquillo non vedo ma che cullerà, ma che cullerà Tomac Tomac